Benvenuti nel mondo Dior. Dior è un marchio francese di lusso noto in tutto il mondo per la produzione di orologi di alta gamma dal 1975. Con un design elegante e sofisticato che spesso si ispira alla moda e alla gioielleria del marchio, gli orologi Dior si distinguono per la loro raffinatezza e la loro estetica impeccabile. L'attenzione al dettaglio e l'uso di materiali pregiati, come l'oro, i diamanti e altre pietre preziose, fanno degli orologi Dior una scelta ambita da appassionati di orologeria e di lusso. La vasta gamma di modelli proposti dal marchio comprende sia orologi classici con cinturini in pelle sia orologi sportivi con cinturini in gomma. I movimenti degli orologi Dior variano dai meccanici automatici ai movimenti al quarzo e molte varianti presentano complicazioni come la data, il cronografo e il calendario perpetuo. Grazie alle collaborazioni con rinomati orologiai svizzeri, Dior garantisce una qualità e una precisione elevate che caratterizzano ogni suo orologio. Tra i modelli più famosi di orologi Dior, la collezione Dior Ottava rappresenta una perfetta sintesi tra design e innovazione tecnologica. Questa linea di orologi femminili prende ispirazione dall'alta moda Dior e dalle sue icone, come la giacca Barre e il vestito Haute Couture. La collezione Dior Ottava è disponibile in diverse varianti di colore, tra cui il bianco, il nero e l'argento. Il cinturino in ceramica lucida dona un tocco di eleganza e raffinatezza a questi modelli che si distinguono per la loro resistenza e durata nel tempo. La collezione Dior Granbal è una linea di orologi femminili che fonde abilmente la tradizione orologera con l'estetica e la creatività della gioielleria Dior. Questi modelli sono caratterizzati dalla presenza di un rotore posto sulla parte anteriore dell'orologio che ricorda il movimento di un abito da ballo. In sintesi, gli orologi Dior sono un esempio di design francese di lusso, caratterizzati da una qualità eccezionale e da un'attenzione ai dettagli impeccabile. La gamma di modelli offerti dalla casa di moda francese è ampia e variegata, adatta a tutte le esigenze e i gusti dei consumatori.